Esamino la cosa fino in fondo. Tu credi che nel solitario silenzio del bosco abiti una ninfa? Un essere, una fanciulla, orbene. Questa ninfa, questa fanciulla, questo essere, abbandona la solitudine ed appare qui a Copenhagen come Kaspar Hauser a Norimberga. Il luogo non importa. Essa appare improvvisamente. Credimi, tutti la fanno alla corte. Lasciatevi descriverlo meglio. Potrei scrivere un romanzo intitolato La ninfa, l'essere, la fanciulla nella solitudine del bosco at modum, del famoso romanzo che si trova in tutte le biblioteche pubbliche, l'urna, nella valle solitaria. Quando essa è apparsa il nostro eroe, è diventato il fortunato al quale essa ha donato il proprio amore. Dobbiamo trovarci d'accordo su questo. Io non ho nulla da obiettare, perché sono già sposato. Tu invece forse ti sentirai un poco offeso, perché un uomo tanto comune è stato preferito a te. Ma siccome ti interessa anche del mio cliente, e questa è l'unica via che rimanga per diventare un eroe ai tuoi occhi, ti concedi il tuo consenso. Vediamo ora. Se il suo amore e il suo matrimonio diventano anch'essi una cosa bella, l'essenza del suo amore e del suo matrimonio sta nel fatto che la fanciulla è l'unica in tutto il mondo. L'essenza sta dunque nella sua eccezionalità. Felicità al pari della sua non si può trovare al mondo. E proprio in questo sta la sua felicità. Egli è tentato a non volersi affatto sposare con lei. Non sarebbe una profanazione di questo amore così eccezionale? Dagli un'impressione così comune, volgare, come il matrimonio? Non sarebbe imprudente esigere da due amanti come questi entrare nella grande compagnia del matrimonio? Di modo che in un certo senso non vi sarebbe altro da dire di loro, se non quello che si dice di ogni coppia di sposi, cioè che sono sposati. Questo probabilmente lo troverai molto ben detto. E l'unica obiezione che avresti da fare sarebbe che è ingiusto che un pezzente come il mio eroe debba portarvi una fanciulla come quella. Se egli invece fosse stato un uomo straordinario come sei, per esempio tu, o un uomo straordinario quanto lo è lei, tutto sarebbe apposta e la loro relazione amorosa sarebbe la più perfetta che si possa pensare. Il nostro eroe si è messo in una situazione critica. Intorno alla fanciulla aveva un parere solo. È una fanciulla straordinaria, io stesso il marito. Dico di lei quello che donna, Clara, dice della bella preziosa. In questo caso la fama che la chiama una meraviglia non ha detto troppo. È molto seducente perdere di vista l'universale e liberarsi nell'incanto del favoloso, ma però il nostro eroe ha gli stessi riconosciuto la bellezza del matrimonio. Cosa ha dunque da obiettare al matrimonio? Lo deruba forse di qualche cosa. Toglie la bellezza a lei. Toglie qualche differenza tra lei e le altre donne. Niente affatto. Ma gli mostra tutto questo come casualità. Finché non si è sposati. Solo quando si scorge, anche nell'eccezione dell'espressione dell'universale, se ne prende saldamente possesso. L'etica gli insegna che la relazione è l'assoluto. La relazione è infatti l'universale. Gli toglie la gioia vanitosa di essere lo straordinario per dargli la vera gioia d'essere l'universale. Gli toglie la gioia d'essere l'universale.